Oggi viene presentata questa applicazione della Cosvega, a cosa serve? Allora, questa applicazione serve ad aiutare i cittadini nella raccolta differenziata, è uno strumento che permetterà ad ogni cittadino di conoscere che rifiuti, qual è il rifiuto da conferire, di fugare ogni dubbio, perché nel momento in cui si ha un dubbio si può utilizzare un codice a barre del prodotto e perché questo permette comunque di fare correttamente la raccolta differenziata. Non è soltanto l'unica informazione che si può avere da questa app, ma si può avere anche il calendario dei rifiuti, si può essere avvisati ogni giorno del rifiuto da conferire e si possono chiaramente anche comunicare dei messaggi all'azienda, messaggi ad esempio di degrado urbano, in modo che noi possiamo intervenire tempestivamente, messaggi relativi a ogni tipo di informazione che vuole essere richiesta all'azienda, è uno strumento quindi diciamo bionivoco che permette a noi di comunicare con i cittadini, ma soprattutto ai cittadini di comunicare con noi. Il tema di raccolta differenziata a Francavilla come si va? A Francavilla ci stiamo lavorando da un po' e devo dire che i risultati sono buoni, anzi direi ottimi. Il primo semestre del 2018 abbiamo raggiunto una percentuale superiore al 70%, che è in linea con le regioni del nord Italia. In Abruzzo purtroppo la percentuale media è ancora al 53%, noi ci stiamo lavorando, si vede, stiamo cercando di aiutare sempre più i cittadini e questo è chiaramente uno strumento che è all'interno di una strategia più importante.